Buon salve, bentornati su No Mamma Mazzo. Oggi parleremo del DC Extended Universe e di come si collocano i film al suo interno, o perché no, al suo esterno. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace, di attivare la campanella delle notifiche, di iscrivervi anche ai miei altri social, soprattutto Instagram, così potete vedere anche i video che usciranno prossimamente, perché lo dico sempre un giorno prima quello che uscirà, staremo più in contatto nelle stories. Vi ricordo sempre che qui sotto io metto sempre dei link Amazon con degli acquisti consigliati a tema con il video che possono contribuire alla crescita del canale e vi metto sempre anche Together Price che è un sito, un portafoglio virtuale che vi permette di collegarvi con altre persone che come voi vogliono risparmiare per vedere le proprie piattaforme streaming preferite. Ma andiamo senza indugio a cominciare con l'elenco dei film del DC Extended Universe. Nel 2013 esce Man of Steel con Henry Cavill nel ruolo di Superman. Ben tre anni dopo esce Batman v Superman Dawn of Justice, sempre con Henry Cavill protagonista nel ruolo di Superman, ma con Ben Affleck protagonista nel ruolo di Batman per mostrarci come questo Batman del DC Extended Universe non sia né quello di Nolan, né quello di Burton, né quello di Schumacher, né quello di Adam West. In questo film, oltre a Batman, ci introducono anche Wonder Woman interpretata da Gal Gadot che nel 2017 avrà un suo film da solista, Wonder Woman, e parlerà delle origini del personaggio, un misto tra Captain America The First Avengers e Thor per la mitologia. Il film Wonder Woman, di cui vi mostro questa edizione in DVD molto carina, è il primo vero successo di critiche pubblico del DC Extended Universe. Ma torniamo al 2016. Subito dopo Batman v Superman Dawn of Justice esce quello che io definisco il tentativo della DC Comics di avere i propri guardiani della galassia, ovvero Suicide Squad. Suicide Squad parla appunto di un gruppo esterno alla Justice League che viene comandato dal governo, da colei Amanda Waller, che prende questi ex criminali e li manda in missioni suicide. Tra questi criminali ce ne sono molti che conoscerete perché sono nemici di Batman o di Flash, come Harley Quinn, Deathshot, Killer Croc, e sono nemici di Batman, Captain Boomerang che è un nemico di Flash, poi c'è l'incantatrice, c'è Katana, c'è Rick Flagg che è un soldato che dovrebbe gestire la squadra nel campo. Il film è stato lanciato tantissimo a livello commerciale, però a livello di critica non ha fatto un gran successo, ma non parliamo di questo per adesso, andiamo al film successivo, Wonder Woman nel 2017, ve l'ho già detto. Nel 2018 esce finalmente Justice League, ovvero gli Avengers della DC Comics, che riunisce di nuovo Superman, Henry Cavill, Batman, Ben Affleck, Wonder Woman, Gal Gadot, ma ci dà anche dei nuovi personaggi come Aquaman, Jason Momoa e Flash, Ezra Miller, oltre al personaggio di Cyborg che per ora non ha un film da solista in cantiere. Subito dopo Justice League esce Aquaman, il film da solista, con Jason Momoa, che ha avuto un successo strepitoso. È uscito a gennaio 2019, ha incassato 800 milioni di dollari ed è stato il secondo successo della DC Comics dopo Wonder Woman. Pochi mesi dopo esce Shazam. Ho fatto un video a riguardo, andatevelo a vedere, è molto carino, sembra lungo ma in realtà è perché l'ho contornato da tante 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 cazzate. Shazam è un eroe che non c'è stato nel film Justice League, ma se mai ci dovesse essere un sequel potremmo vederlo ancora insieme agli eroi principali, anche perché sarebbe molto bello confrontarlo contro Superman, dato che hanno più o meno gli stessi poteri. Questi sono i film usciti finora, ma parliamo dei film futuri. Si parla che nel 2021 esca Green Lantern Corps, che è un reboot, un rilancio di Green Lantern, quello con Ryan Reynolds che non ha fatto successo, che non fa parte dell'MCU, non è stato incluso proprio perché non ha fatto successo. Rifaranno Green Lantern, hanno già accennato al fatto che le lanterne esistano in Justice League, faranno un film a parte. E molto probabilmente con Green Lantern, se mai ci sarà un sequel Justice League 2, vedremo l'eroe Al Jordan inserirsi nella Justice League, magari insieme a Shazam appunto. Sempre nel 2021 uscirà The Suicide Squad, sequel e o reboot di Suicide Squad del 2016, perché come avevo detto non ha avuto delle critiche positive, quindi molto probabilmente potrebbero rebuttarlo, diretto da James Gunn. Mentre nel 2020, sono andato a ritroso, uscirà Birds of Prey, subito a febbraio, una gang tutta al femminile di anti-eroine di Gotham, Harley Quinn, Huntress, cacciatrice, e Black Canary, che è la compagna di avventure e nella vita di Green Arrow. Ultimo, ma non meno importante, sempre nel 2020, uscirà il film su Flash, quello con Ezra Miller, quello di Justice League. Perché potrebbe essere così importante? Innanzitutto l'hanno rimandato tantissimo questo film, ma si intitolerà Flashpoint, quindi è molto probabile, o meglio, non so se la DC avrà tutto questo coraggio di fare una cosa del genere, ma potrebbero sfruttare il film Flashpoint per aggiustare il tiro su alcune cose che non sono andate bene nel DC Extended Universe. Mi riferisco al fatto che Henry Cavill potrebbe non interpretare più Superman, mi riferisco al fatto che Ben Affleck non interpreterà più Batman, mi riferisco al fatto che uscirà un film da solista su Batman, con Robert Pattinson, chiamato The Batman, e sarà fuori da questa continuity. Di conseguenza, non è nel DC Extended Universe, ma magari con Flashpoint potrebbe entrare, chi lo sa. Mi riferisco al fatto che Flashpoint potrebbe causare il motivo per cui The Suicide Squad non sarà un sequel, ma un reboot di Suicide Squad del 2016, perché magari cancellerà gli eventi di Suicide Squad 2016. Potrebbe essere un risvolto interessante usare la narrativa per aggiustare le minchiate che hanno fatto commercialmente in questi anni, così come succede nei fumetti. E voi cosa ne pensate? È una cosa troppo azzardata o è una speranza che non morirà per ora? Fatemelo sapere nei commenti. Questi sono tutti i film del DC Extended Universe che mettiamo in una bolla che chiamiamo DC EU, fuori da questo DC EU, come ve l'ho anticipato prima, c'è il film di Green Lantern con Ryan Reynolds che è in un universo a parte, i film di Superman con Christopher Reeve, i film di Batman di Nolan, i film di Batman di Barton e Schumacher che sono insieme, il telefilm di Flash degli anni 90, tutto l'Hurroverse che poi ha delle sottoterre praticamente, perché anche nell'Hurroverse ci sono delle terre infinite, delle terre parallele, il film imminente sul Joker che è una graphic novel cinematografica come la definisco io, quindi si esclude dal DC Extended Universe, è in una terra a sé. Ok? Quindi se siete ossessivo-compulsivi e dovete per forza catalogare tutte queste cose e dargli un senso, spero che questo video vi abbia aiutato, a me ha aiutato. So che venendo da un universo coeso come quello del Marvel Cinematic Universe dove persino i telefilm interagiscono nello stesso universo dei film, è difficile comprendere la DC Comics che ha fatto questa scelta così confusionaria, ma se teniamo conto che anche nel fumetto ci sono sempre state delle terre infinite nella DC Comics, allora potremmo anche mandar giù il fatto che vediamo delle versioni parallele e diverse degli stessi personaggi nei telefilm e nei film e nei reboot a distanza di pochi anni. Con questo è tutto, io come sempre vi saluto con l'inchino e con l'imbuto e vi ricordo di iscrivervi al canale in modo che noi ci possiamo vedere nel prossimo video. Arrivederci! Grazie! 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 Grazie!